Buongiorno, si vede che sono ancora addormentato, non ho trovato tante news, quindi ci sta che mi sia preso qualche cosa, qualora fosse, per favore, fatemelo sapere. Comunque, SEO e perità di traffico. Le analisi non sono mai semplici come sembrano, qualche spunto. SEO tips, il parametro text fa risparmiare fino al 90% di dimensioni. Wow! Notifiche con campanella su LinkedIn, questa è una cosa che va assolutamente fatta. Cioè, una bellissima cosa da parte LinkedIn, mi piace veramente tanto, spero che prenda piede bene. Bene, schema markup e tag manager, per poter andare a inserire appunto schema con tag manager, in agilità sulle pagine, molto importante. SEO e CTR medio nella SERP. È curioso vedere come è variare delle posizioni, in dei casi la importanza sia enorme, in dei casi pochissima. Quali social network ha la più grande portata pubblicitaria? YouTube stravince. C'è un botto di soldi dentro YouTube. E su questa cosa sarebbe interessante fare una riflessione. Tutti i bias cognitivi in un unico schema? Troppo bellino, sicuramente a guardare. Per Formax Max, fanno una serie di esempi, 12 esempi sostanzialmente, 12 cose da sapere. Alcune, secondo me, è bene ripassarle. Non è niente male. Pinterest arriva a prova per arrivare a arredamento di interni, che sostanzialmente può essere... Cioè, se roba del genere, prende piede, diventa obsoleto l'esperienza di navigazione precedente. Beh, molto carino. Native Retail, anche in questo caso carino, che te praticamente c'hai un QR code dappertutto e compi ovunque tu sia. Però, insomma, da sviluppare. Una ricerca per Google Ads abbastanza interessante, dove tipo vengono fatte le ipotesi di spesa tra i vari canali, come ottimizzare un feed, come ottimizzare le campagne. C'è tante cose in questo articolo. Alcune, secondo me, potrebbero essere idee interessanti da sviluppare. Come funziona l'algoritmo di LinkedIn? Sfruttare la questione del consiglio da parte di pagine, insomma, di roba che ha un certo peso. Non è niente male, eh? Cioè, quindi sono tutte cosine da fare. E altrettanto per Instagram, qualche deuzza su come fare un po' meglio. Facebook, sottostimo, un pochino meno le conversioni da parte di iOS. Questo ci fa tanto piacere, rimane il problema, ma forse un po' meno. Peccato che alle porte ci sia il crollo, perché sta succedendo casino anche sul lato Google Android. Google Maps ti dice quante recensioni ha fatto quella persona in quella località. Quindi per capire se ha una pertinenza locale interessante da studiare anche questa cosa qui. Google Ads, tutti i criteri di targeting, anche questo è utilissimo. C'è un elenco infinito, fa super comodo. È un esperimento divertente dove viene mandata una frequenza a dosa dell'acqua e l'acqua a quella frequenza risuona, entra in risonanza e quindi ha un comportamento sanissimo. Va visto, non si può raccontare, va assolutamente visto. Detto questo, vorrete tornare a dormire, purtroppo no, e quindi buona giornata. Ciao.